Ben ritrovati amici dello sport, siamo sempre noi quelli di Anteprima Sport, subito dopo la sigla. Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Ben ritrovati amici dello sport nella Valle d'Itria, sesta puntata di Anteprima Sport, non solo calcio in questa puntata, in quanto vi anticipo il sommario, non solo di calcio, ma anche di attività del Vespa Club, della Marathon Bosco Pianelle, e non solo di bike, ma anche di ginnastica artistica in questo turno di Anteprima Sport, splendida, come sempre. Grazie Giuseppe. Elena Tagliente, a te il compito della presentazione dei graditi ospiti. Certo Giuseppe, però il merito del mio outfit è tutto della boutique Cosanti, che si occupa del mio look e ci tengo a ringraziarla. Curato particolarmente, eh? Sì, è molto molto bello. In occasione della festa della donna, eh? Sì. Un look che sfoggi veramente. Approfittiamo anche per fare gli auguri a tutte le donne. Look importante. E stasera, ti devo dire, siamo anche in compagnia femminile, quindi non solo uomini stasera, oltre me, diciamo. Belle presenze anche femminili. Iniziamo subito presentando gli ospiti di questa sera, Giuseppe, partendo dalla nostra sinistra, presentando Tommaso Bonanno, attaccante del Martina Calcio. Buonasera. Buonasera. Benvenuto. Grazie, grazie per te. Tommaso. Per la prima volta nella nostra trasmissione. È vero. Bonanno, un siciliano doc, nel gruppo del Martina. Esatto, da dicembre, qui con noi. Eh sì. Proseguo presentando l'amico Ottavio Cristofaro, della Gazzetta del Mezzogiorno. La colonna della nostra redazione. Sono tornato, eh? Sono tornato, avete avuto... Anche Ottavio, lo troviamo in splendida forma. Vabbè, non esageriamo, non esageriamo. La settimana scorsa purtroppo sono mancato, ma vi avevo promesso che sei ritornato. Hai portato la giustifica dei genitori. Promessa mantenuta. Sì, ci siamo. Sei perdonato. Stasera abbiamo qui con noi Consuelo Caro, l'istruttrice della SD Allegria. Benvenuta. Buonasera, grazie per l'invito. Come è sempre un piacere essere qui. Grazie mille. E quindi la consueta finestra sarà graditissima... Sulla ginnastica. ...nel nostro contenitore sportivo. Grazie. Sì, e ancora stasera abbiamo Marco Zaccaria del Vespa Club. Buonasera a tutti e grazie per l'invito. Un piacere. Non si era capito che è del Vespa Club, eh? No. Beh, gli stimi sono abbastanza eloquenti. Si vede bene, no? Beh, direi. Marco, con te parleremo dell'ultima gara che vi ha visti impegnati. È un'attività questa del Vespa Club che si sta affermando sempre più e che trova sempre più proseliti nel nostro territorio. Sì, fortunatamente c'è un, diciamo, un cambio generazionale, no? Quindi noi, vabbè, soprattutto Martina, io parlo di noi, dell'aspetto di Martina Franca, abbiamo molti ragazzi. Quindi fortunatamente, diciamo, siamo seguiti, no? Abbiamo, come dire, attirato l'attenzione di molti minorenni e questo fa sì che domani ci sia altrettanto... Senti, però in Valle Vitria c'è questa passione per la Vespa, è sentita in maniera particolare. Beh, sì, sono parecchi Vespa Club tra Martino, Locorotondo, Cede e tutti i paesi qui vicino. Quindi... Inquadriamo questo trofeo? Sì, siamo parecchi, siamo parecchi. Dal vostro club, no? Sì, questo è il trofeo penultimo, lo abbiamo vinto a Reggio Calabria. E l'hai portato qui in trasmissione. Sì, è il trofeo del Sud Italia, eravamo 84 partecipanti, l'abbiamo vinto noi. L'abbiamo portato anche il nome di Martina. Senti, cosa c'è in programma? Allora, adesso abbiamo appena chiuso il campionato invernale, che abbiamo... l'ultima gara è stata a Varese. La prossima sarà tra due settimane sullo sterrato a Carosino, ed è un regionale. Siamo carichi anche questa... In bocca al lupo per questa... Crepe. Torneremo a parlare di questa vostra attività sociale, di questa associazione. Grazie. Ma io vorrei anche introdurre Consuelo, così come c'è la passione per le Vespa, e però c'è anche una passione che trova sempre più adepti, la ginnastica, ginnastica artistica in questo caso. Sì, sì, ginnastica artistica femminile e maschile, principalmente, essenzialmente ed unicamente ginnastica artistica. Consuelo, ci siamo preparati noi con delle immagini freschissime che tu ci hai trasmesso. È molto affrequentata la vostra palestra. Spero. Significa che lavorate bene. Diciamo che c'è tanta passione. Ecco, queste sono delle immagini dell'allenamento freschissimo di stasera. Infatti mi piaceva l'idea di portare proprio un assaggio di quella che è stata la giornata odierna. Noi abbiamo diversi settori, qui vediamo sia gli atleti delle squadre agonistiche che poi i principianti. Diciamo, a noi piace anche lavorare, ecco, dove siamo un po' tutti insieme, perché poi è bella, è bello per me far passare l'idea che siamo tutti una famiglia, che non esiste poi l'atleta di alto livello oppure il principiante. Ricordiamo le fasce d'età dei vostri atleti. Noi iniziamo dai tre anni e non c'è termine. Perché la ginnastica... Consulano tanti sacrifici dietro, eh? Tantissimi. Tantissimi, soprattutto perché, ecco, la precocità con cui si inizia questo sport fa sì che i sacrifici siano tanti e soprattutto richiesti a bambini e bambine che vengono sottoposti, diciamo, anche ad allenamenti abbastanza duri. Però quando questo viene fatto con passione e anche con un po' di allegria, se me lo concedete, il tutto diventa sicuramente molto piacevole. Quindi tutti i sacrifici e vengono poi pagati dei risultati, che devo dire grazie, grazie soprattutto all'impegno. Devo ringraziare lo staff, perché è uno staff molto, molto... Le vuoi citare, Consuelo? Certo, certo. Le vuoi citare tutti. Allora, il mio staff ringrazio Martino Castellana, Alessia Castellana, Greta Perrini, Riccardo Sgobba, Giorgio Olivieri, Anastasia Martello, veramente Santina Leuzzi, Mariangela Perrini. Noi siamo tanti. Voglio anche dire dove vi trovate. Sì, noi ci troviamo in Via Chiancaro, quindi nei pressi della zona industriale. Da qualche anno abbiamo una struttura privata. Per chi volesse, siamo sui social, quindi abbastanza reperibili anche lì. Poi non è soltanto un fatto di risultati agonistici. C'è la socialità, poi, no? L'aspetto... Soprattutto. È vero? Formativo. Formativo, educativo. Certo, certo. Perché lo sport è soprattutto... Nella pratica di questo sport. Sì, un andare a lavorare su quello che è l'aspetto anche relazionale. Anzi, io penso che sia il grande potere dello sport, quello di poter unire tante persone, perché poi è un linguaggio universale. E la cosa bella, ecco, io mi trovo a guardarlo tutti i giorni, è riuscire a vedere, come dicevamo prima, ma bambini piccoli, ragazzi grandi, adulti, lavorare tutti insieme verso un unico obiettivo. E questo è molto importante, sia dal punto di vista, come dicevamo, relazionale. Ed è questo il messaggio che noi vogliamo anche, attraverso la nostra trasmissione, no? Diffondere. È vero, la domenica lo stadio, lo sport vissuto sugli spalti, però quello praticato è sempre quello più valido e quello da incoraggiare di più. Certo poi ci sono le imprese dei nostri beniamini del calcio, qui introduco oramai, entriamo a gamba tesa. Io ho voluto glissare un po', anche perché l'ultimo risultato, Tommaso, ci ha lasciato un po' la mare in bocca, lo dobbiamo dire. Noi sì, siamo operatori di informazione, ma siamo innanzitutto, l'avrai capito, gli appassionati di calcio e del Martina, e delle imprese del Martina. Tommaso, che è successo domenica? Ti faccio subito questa domanda brucia pelo. Sì, sì, no, tranquillo, niente, è una giornata storta, che credo che abbia fatto anche una grande partita e diciamo che la fortuna non ci ha aiutato domenica, che abbia preso gol con un autogol. Senti, non è bello parlare degli errori dei compagni, certo che sono stati due infortuni, davvero. Una cosa, una domenica è storta, perché se non sbaglio tre settimane fa, quattro settimane fa, con la Gelbison, Peppe ci ha salvato, quindi può capitare. Una giornata storta per tutti quanti. Senti, vi aspettavate voi un Gravina così determinato? Ma guarda, mi aspettavo, io conosco l'allenatore, mi aspettavo una squadra ben messa in campo, che è venuta a Martina a giocarsi la partita. Noi lo sapevamo e quindi abbiamo cercato in tutti i modi di portare i tre punti a casa, che era la cosa più importante per noi, per il nostro cammino. Però non ci siamo riusciti, speriamo di rifarci già da domenica. Beh, uno che legge bene queste gare e nei commenti a caldo lo ha già fatto con noi, lì in tribuna, è stato Ottavio Cristoforo. Ottavio, un passo falso che non ci aspettavamo. Sì, siamo rimasti particolarmente amareggiati, anche perché è vero che la domenica storta può capitare. Ci ricordiamo tutti la partita contro il Lavelo dell'anno scorso, che segnò un po' uno spartiacque di quella stagione, della stagione passata. Quella contro Gravina è una prestazione paragonabile a quella di domenica scorsa, però arriva nel momento sbagliato. Nel senso che arriva nel momento in cui questa squadra aveva e continua ad avere un bisogno di punti incredibili per rimanere lì in vetta. La classifica Martina si sta giocando tutto in queste giornate. Da qui a un mese ci aspetta un filotto di partite che fa paura, perché c'è il Nardò, c'è Altamura, c'è il derby contro Fasano. Sarà difficile fare punti. Io qualche settimana fa, soprattutto dopo la partita contro la Palmese, scrissi un pezzo sulla Gazzetta del Messo Giorno, a Palmese ci può stare di non ottenere il punteggio pieno, quello sperato. Però poi succede che arriva Casarano e anche lì non arriva il punteggio pieno, poi arriva il Gravina, che era penultima in classifica. Grazie a noi, invece, a Grazia Almartina, è riuscita a salire leggermente nella gradatoria. Vediamo la classifica e questo ci fa capire quante occasioni si possono perdere se si vuole stare lì davanti. Prima buon anno mi diceva, microfoni spenti, noi ci crediamo ancora. Dobbiamo crederci, attenzione, fanno benissimo i ragazzi, fa bene la società, fa bene il presidente Soldano, il presidente La Carbonara a dare questi messaggi perché è importante, soprattutto perché quest'anno il Martina può contare su uno spogliatoio fatto di giovani, e i giovani sono capaci di tirare fuori delle sorprese incredibili. E questa è forse la differenza rispetto all'anno scorso. Però, ecco, poi bisogna guardare i numeri. Nonostante, Giuseppe, noi il commento che abbiamo fatto in tribuna, lì allo stadio, è che nonostante l'Altamura abbia rallentato la sua corsa, che era una corsa spedita perché faceva paura l'Altamura. Non ha saputo approfittare il Martina. Non siamo riusciti, anzi, siamo arrivati adesso siamo a meno otto. Io leggevo un commento, sai, navigando sui social, Antonio Tramonte, un amico della nostra redazione, aveva sottolineato in un post come il Martina in 29 gare interne, di due campionati, ha vinto otto volte in casa. Cioè per 21 volte non è riuscito a vincere. Che segnale è questo? Non sappiamo da che cosa dipende. Ne abbiamo parlato anche nella passata stagione. Il Tursi non è più un... Continuiamo a dire che il Martina è più da trasferire. Non è più un fortino. Una squadra più da trasferire. C'è da dire anche una cosa importante, un elemento... Però i campionati si vingono in casa. Eh, si vingono in casa, certo. Anche perché l'entusiasmo della tifoseria si costruisce in casa. Eh. Anche questo è importante. Vanno bene. Sono belle. Le vittorie conquistate fuori casa sono belle, eh. Attenzione, perché poi il viaggio di ritorno è una bellezza. Per chi, come noi, è appassionato di sport, lo racconta. Ma è un onore perché non abbiamo più l'età, ma l'abbiamo anche praticato. Il viaggio di ritorno dopo una vittoria in trasferta è sempre bellissimo. No, è molto bello. Noi ci siamo fatti il viaggio di ritorno insieme a Elena da Casarano, nella trasferta l'ultima del Martina. Insomma, non è che eravamo particolarmente felici della prestazione dello spettacolo visto. No, perché anche lì... No, a Casarano ci sta il pareggio, ci può stare. Però se continuiamo a dire ci può stare e non andiamo più a giustizia... Cioè, noi siamo lì, adesso in questo momento il Martina si sta giocando... Cioè, noi stiamo... Il messaggio è, dobbiamo arrivare primi. Se dobbiamo arrivare primi, il ci può stare non esiste. È vero. Cioè, da oggi in poi non può esistere più. Perché noi abbiamo, adesso, noi dico il Martina, abbiamo un filotto di partite che, dicevo prima, fa paura. Cioè, se noi ci può stare con il Casarano, eh, ci può stare pure con il Nardò. Perché non ci può stare? Certo che ci può stare. E con l'Altamura cosa dobbiamo fare? Un unico risultato abbiamo a disposizione per il primo posto. Poi è chiaro che le strade per arrivare nella terza serie regionale sono diverse. Nel senso che si può provare anche a pensare di poi puntare tutto a un certo punto. Intanto blindare la posizione playoff e questo il Martina lo sta facendo bene. E poi giocarsi tutto nella... In quello che sarà la seconda parte poi della stagione, che sarà la stagione più bella. Anche la parte della stagione più bella, anche se c'è da dire, la vittoria dei playoff non dà diritto alla promozione diretta, ma dà diritto a un ripescaggio eventuale. E lì, qui poi entra in ballo... Cioè, il posizionamento nella graduatoria dei ripescaggio. E qui entrano in ballo altri ragionamenti, perché poi non bastano più i meriti sportivi. Ma tanti altri requisiti. Tanti altri requisiti, tra cui lo stadio. Famoso problema annoso dello stadio. Sì, perché la vittoria del campionato, l'arrivo al primo posto della graduatoria, consente di ottenere un'iscrizione con deroga dell'impianto sportivo comunale. Diversamente, lo stadio acquisisce un valore importante nella composizione di quella che è poi la griglia per la classifica dei ripescaggi. Oh, dovremmo avere... Vediamo se è pronto. La regia ci dice ancora di no. Torniamo su Bonanno. Stiamo commentando ancora, poi nella seconda parte saremo più proiettati verso il prossimo impegno a Nardò, che è una sfida che richiama il calore dei tifosi del Martina, in quanto avrei saputo che c'è un storico gemellaggio con la squadra del Nardò. Invece, Tommaso, so anche di un pirro che piangeva negli spogliatoi. Normale, il ragazzo giovane, bisogna solamente incoraggiarlo e... Ormai il gravino è passato. Classe 2005. Non ci pensiamo più da domenica sera, quindi ormai... Beh, un'altra volta lui ha parato un rigore. Ha parato il rigore con la Gelbson, ha fatto otto partite, non ha subito manco un gollo, quindi cosa io vedo della nostra genere. Il terreno di gioco, dicevi anche tu, no? È un po' particolare il Tursi. Perché c'è dei rimbalzi imprevedibili anche, no? Possiamo anche dirlo questo. Può essere sicuramente anche una spiegazione, Ottavio, eh? Sì, questo è importante da dare questo messaggio, vogliamo darlo anche da questi microfoni e da queste telecamere. A Pirogli diciamo subito di non pensarci più a quell'episodio. Cioè, purtroppo un errore di un portiere rischia di diventare decisivo, però fa parte del gioco. Stiamo parlando tra l'altro di un giocatore che ha dimostrato di essere valido, capace, non solo in una o un paio di occasioni, insomma, che possiamo ricordare, ma parliamo di un giocatore di livello, giovane, quindi va incoraggiato assolutamente. Martina è una squadra giovane, questi ragazzi vanno incoraggiati. Quindi non c'è più tempo per pensare a questa cosa, adesso è importante pensare al futuro. Un altro messaggio che possiamo dare, Giuseppe, stasera è facciamo gli auguri al Presidente Lacarbonara, che oggi è il compleanno, a Piero. Lo salutiamo perché sappiamo che ci segue, è il Presidente del Martino, uno dei due Presidenti, lui insieme a Soldano, ma è il compleanno di Piero, gli facciamo gli auguri. Il compleanno del Presidente Piero Lacarbonara. Aprofisso anche per dire che sono arrivati dei messaggi di auguri proprio per il Presidente Piero Lacarbonara. E noi ci uniamo agli auguri per il nostro Presidente. Vero. Però abbiamo in collegamento, dovremmo, vediamo se la regia ha già questo collegamento pronto. Con Anteprima Sport c'è Vincenzo Moncelli, già è stato lui ospite di una nostra puntata. Benvenuto. Ci senti? Vediamo se l'audio... Lo vediamo, ma non abbiamo... Non abbiamo il ritorno audio. Ho l'impressione che lui ci senta e invece noi... Non riusciamo... Ebbè, questi sono gli scherzi della diretta, Ottavio, eh? Tu che sei un navigato... Adesso il nostro regista... Noi intanto guadagniamo qualche secondo... Francesco Tornone sarà certamente in grado di recuperare questa cosa. Ma noi siamo ostinati, riproveremo. Torniamo su Tommaso Bonanno. Dicevi, è oramai acqua passata. Sì, adesso pensiamo al Nardo Domenico. Però c'è il rischio che quest'anno, pur non essendo partito il Martina, per vincere come squadra candidata... Stiamo dimostrando sul campo che ce la possiamo giocare fino alla fine. Qualche punto perso al Tursi, però? No, lo ripeto, non voglio... Guarda, te la posso dire una cosa. Durante un campionato ci può anche stare che perdi qualche punto. L'abbiamo perso noi, l'ha perso Altamuro, l'ha perso il Casarano, Andrea, c'è squadra che hanno speso veramente tanto. E ad oggi, io guardo la classifica e vedo il Martina che si sta giocando il campionato rispetto a tante altre. Quindi, ad oggi abbiamo fatto un campionato importante e dobbiamo solamente continuare, secondo il mio punto di vista. Certo, non si può dar torto. Il campionato è importante ed è come. Martina è secondo, non è partita come grande favorita, l'abbiamo sempre detto, sostenuto. Però io sono convinto che la società ha un pensierino, no? Ce l'ha sempre fatto. La società ha sempre il contrario, invece, che sono partiti per vincere. Perché non è una squadra di secondo livello. Anzi, anzi. Vediamo se questa volta l'audio arriva in maniera migliore. Mister Moncelli, il vice Pizzulli. Buonissimo, adesso sì. Buonasera a tutti. Mister, abbiamo buon anno qui in studio con noi. diceva, cerchiamo di mettere da parte i rimpianti di queste, gli strascici di una sconfitta interna che ha interrotto la serie positiva al Tursi. Martina era imbattuto. Però ha lasciato un po' di amaro in bocca. Ma saluto Tommaso, ovviamente. Tommaso ha ragione, perché noi da lunedì stavamo pensando alla partita di domenica. Nardò, dobbiamo fare così perché non possiamo pensare o piangere sul latte versato. Soltanto, il ramarico è tanto perché la partita dice che comunque abbiamo fatto tutto noi. Perché purtroppo due infortuni di due giocatori importanti come Pirroa e Silletti hanno fatto sì che la partita non abbiamo portato un risultato positivo. Però i ragazzi si impegnano sempre a mille. Io sono fiducioso. Non vogliamo fare un processo, anche perché il processo si fa il lunedì. Noi andiamo in onda il giovedì. A Mente Serena, c'è qualche scelta che magari non avreste fatto? Dico come sta. Col seno di poi è sempre facile parlare. Io credo che in campo è andata la migliore formazione possibile per quello che si era visto in settimana. Sappiamo di poter contare su tanti giocatori importanti. Tommaso è uno di quelli dove ultimamente sta avendo poco spazio, però sicuramente sarà importante per questo finale di stagione. Ma come lui, molti altri. Vedi, Tedesco ha tanti altri. Quindi mi dispiace per Maffei, che purtroppo si è infortunato di nuovo. Noi siamo tanti e una squadra che vuole puntare a qualcosa di importante deve essere unita in tutto e per tutto. Poi analizzando la partita ci sono stati troppi errori e quindi quando fai tanti errori difficilmente esci con un risultato positivo dal campo. Come definisce lei la condizione atletica della squadra? Io penso che comunque è una condizione importante perché alla fine, anche domenica, abbiamo finito la partita increscendo. Stavamo giocando solo su una metà campo. Quindi una squadra che è sulle gambe, dopo un primo tempo del genere, non fa un secondo tempo così di intensità e di voglia per portare a casa non il pareggio, i tre punti. Perché poi noi domenica abbiamo giocato fino alla fine per vincerla. Poi non siamo riusciti neanche a pareggiarla, però quello è lo spirito. Quindi io credo che la condizione sia una condizione ottimale. Poi ci sta che qualche giocatore ha giocato tanto e quindi può sentirne un po'. Però io credo che la gestione, almeno il mister, è bravo in questo perché comunque dà spazio a tutti. Durante un campionato così difficile tutti quanti possono togliersi le loro soddisfazioni. I tifosi possono credere che magari fuori casa si possa recuperare qualche punto lasciato in casa? La storia del Martina, la nostra storia, ci dice che forse in trasferta abbiamo fatto le migliori partite. Ora non so se è per il campo o per la pressione, quello che si voglia. Però fuori casa abbiamo sempre dato grande dimostrazione di squadra forte e compatta. Non sarà facile, lo sappiamo. Però in questo momento non possiamo mollare assolutamente perché mancano ancora nuove partite e quindi bisogna stare sul pezzo. Al di là poi di quello che si otterrà a fine anno. Se è qualcosa di importante ben venga. Però comunque dobbiamo tenere ben saldi pre-off. Dobbiamo stare attenti alle squadre dietro che comunque macinano punti come noi. Quindi i nostri obiettivi ce li abbiamo ben precisi e quindi non possiamo mollare assolutamente. Insomma, gli otto punti si possono recuperare? Ci credete ancora? Ma se non ci credevamo è inutile che ci andiamo ad allenare al campo. Ci crediamo nel senso che comunque affronteremo tutte le partite per portare a casa la vittoria e cercare di vincere il più possibile. Poi, ripeto, se l'Altamura è brava a vincere tutte e a non perdere punti, gli faremo i complimenti. Perché comunque sta dimostrando al momento la migliore squadra della Serie D. Perché lo dice anche la classifica. Gli otto punti di differenza ci stanno tutti? Rispecchiano i due cammini? Ma secondo me è ancora presto. Perché comunque ci sono ancora altri scondi diretti. Quindi penso che le prossime tre o quattro partite potranno dire molto. Se realmente sono meritati questi otto punti oppure ci sarà da soffrire anche per loro fino alla fine. Noi sicuramente daremo battaglia. Poi, ho detto il calcio è strano, Brindisi insegna l'anno scorso. Una iniezione di ottimismo sicuramente. L'intervento di Mr. Moncelli, sempre gradito nella nostra trasmissione. Grazie Mr. Buon lavoro. Grazie a voi e un saluto a tutti in studio. Ciao. Rientriamo in studio. Il messaggio di Moncelli. Ci lascia un... A me piace molto. Qualche speranza. Allora, dal punto di vista comunicativo mi sta piacendo molto il lavoro che sta facendo questa squadra. Mi piace molto il linguaggio che si utilizza. Mi piace molto tenere i piedi saldi per terra. Quindi un grande bagno di umiltà che però domenica è mancato. E questo non lo dico io. L'ha detto Massimo Pizzulli al termine della partita. Ha parlato di presunzione. quella che è la partita. Sto fermandosi anche sui numeri perché è vero, Giuseppe, come dicevamo, che il Martino ha costruito questo suo secondo posto con le prestazioni in trasferta. Ma è anche vero che al Tursi la vittoria fatica ad arrivare ma anche la sconfitta. Nel senso che domenica scorsa è la prima sconfitta stagionale. Quindi vuol dire che al Tursi si pareggia. Ecco questo. In sintesi, in soldoni. Il che al tifoso non piace. No, assolutamente. No? E il tifoso in casa vuol veder vincere. Sì. Ma dicevamo prima, l'entusiasmo si crea con le vittorie in casa. Il Tursi continua a non rispondere. Questo è un altro dato importante. Nel senso che a fronte di una classifica, che vede il Martino in questo momento al secondo posto, a due punti dalla terza squadra sul podio, che è il Mardò, che andremo a incrociare tra qualche giorno, e a otto punti dall'Altamura, che è comunque una stagione importante, ecco tutto questo percorso, questo cammino sportivo non si riscontra con quelle che sono le presenze del pubblico sugli spalti. Nel senso che la tribuna coperta non era da tutto esaurito, i distinti continuano a rispondere bene, la curva mi sembra che nelle ultime uscite forse un po' di entusiasmo in più lo si percepisce, lo si sente anche nel suono, nei canti, nel rumore che fanno questi ragazzi in campo. Però ci si aspetterebbe di più, anche perché guardando le altre squadre, le dirette concorrenti, fanno molto tesoro di quello che è il supporto del pubblico allo stadio. E qui c'è un giocatore che di piazze ne ha vissute tante. Tommaso, la vogliamo ricordare un po', le tue ex squadre? Vediamo se io le ho elencate con ordine. San Cataldese, La Mezzia, Ultime Tappe, Santa Maria, Cilento, Cittanova, Castrovillari, Sorrento, Como, Gela, Taranto, Messina. Piazze importanti. Qual è quella che ti ha lasciato dei ricordi più importanti? Il più importante sicuramente è Gela, che è stato il mio trampolino di lancio. A tutti, sei trovato con Gambuzza pure qualche volta. Sì, con Raffaele, siamo stati compagni di squadra, siamo amici. Sì, sapevo che mi ha fatto il capitano tanti anni qua mattina. Diciamo che Gela è stato quello che mi ha fatto esplodere, perché ho fatto 30 gol in due anni. Poi ho cominciato tutta la mia carriera, penserei di. Qualche promozione anche nel... Sì, Colcomo ho vinto, non sbaglio, nel 2017, no, nel 2017, nel 2018. Non ricordo bene per adesso. Como che ha una società ora importante che puntano... Quando c'ero io, loro hanno comprato la società. Senti, parliamo della tua stagione a Martina. Hai trovato compagni qui che conoscevi? Sì, sì, ho incontrato Baglione. Baglione, sì, abbiamo giocato insieme l'anno scorso. Un grandissimo giocatore, un bravissimo ragazzo, ma come tutti d'altronde. Conoscevo Rizzo perché siamo stati avversari in tante occasioni. Si letti la stessa cosa, diciamo che ho un po' conoscevo i ragazzi. E la tua stagione a Martina? Nuove presenze finora, due gol, due assist. Per adesso... Ho riassunto bene? Sì, sì, sì. Pochini per adesso, per quello che è il mio obiettivo, il mio standard. Senti, abbiamo parlato di due infortuni, però il Martina è stato capace di realizzare un bel gol, spettacolare. Io, come dicevo poco fa, abbiamo fatto una grande partita perché una squadra che va sotto di 1-0 in un momento così importante della stagione non è facile, a volte riesce a fare la partita. Noi abbiamo fatto di tutto per poterla vincere, abbiamo pareggiato con Sandro e poi alla fine l'abbiamo persa per... una distrazione, un colpo di sforzo, come dicevo poco fa, sforzo non è più che altro. Beh, non è bello parlare di errori dei singoli. No, 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 completamente. Però, tutto sommato, il Martina ha creato 5-6 palle di gol. È avuto l'occasione con Lorenzo. Se li andiamo a elencare. Questo calcio di punizione è un capolavoro, eh. Questo calcio di punizione è davvero... Beh, è giusto anche... Ce l'ha sti colpi, Sandro. Ce li ha, è vero. Questo tiro, questo tentativo, forse il tiro troppo centrale è stato, peccato. C'è stato anche un... Ci hai provato anche tu un buon anno, con un sinistro. Da fuori... No? Dovevo stoppare la palla, la... Eh, vuole colpire a polo e... Cercato di colpirla di prima e... Allora, subito dopo il pareggio del Martina abbiamo avuto l'impressione che il Martina, ecco, era pronto a riagguantarla, perché poi un paio di giri di lancette subito dopo è arrivato una cannonata di Ivolella che sembrava dentro. Cioè, la palla era dentro, è stata tolta non so da chi. È vero, è vero. Salvataggio quasi sulla linea, un colpo di testa da parte della difesa che è riuscita a respingere. Una palla che in realtà era già dentro. L'ha presa troppo bene. Sì, sì. E quindi sembrava un po' che il Martina la potesse riagguantare come risultato. Però Ottavio diceva a Tommaso, mettiamola alle spalle, allora, questo passo falso. Se no ci incupiamo, ci entristiamo. Siamo già proiettati al prossimo appuntamento, il Martina sarà impegnato a Nardò, all'andata finì 1-1, però voglio fare un salto ora, un break con il calcio. So che tu hai preparato un servizio su una bella vittoria conquista, ottenuta dalla squadra di Tennis Tavolo. Tennis Tavolo, sì. Dall'Olimpia Martina. Tu sempre attento. La società di Giuseppe Serio, hanno ottenuto una promozione con una delle loro squadre. Si parla di promozioni in Serie B. Serie B, sì. Serie B, mi sono andato a trovare i ragazzi, loro si allenano al centro servizi. Possiamo mandarlo questo servizio. È un servizio che ho realizzato per Antenna Sud. Che la regia curata da Francesco Turrone con Pino Sgobbio al suo fianco è pronto a trasmettere. Abbiamo fatto una grandissima stagione che ci ha consentito con 11 vittorie di fila di tagliare il traguardo con tre turni d'anticipo rispetto alla fine del campionato. La Tennis Tavolo Olimpia Martina ha conquistato l'accesso alla Serie B. Si tratta di un ritorno per la società sportiva di Martina Franca guidata da Giuseppe Serio. La nostra associazione è composta da sette squadre. Abbiamo una squadra in C1 che è appunto salita in D2, due squadre in C2, due squadre in D1, una squadra in D2 e una squadra in Serie C femminile. Come società sportiva voi siete impegnati qui negli spazi del centro servizi di Martina Franca anche in progetti di inclusione sociale? Assolutamente sì. Ci siamo aggiudicati nel tempo tre progetti importanti. Uno con il Ministero dello Sport e l'altro con la Regione Puglia. È da ultimo partito circa un mese fa, quindi presentato anche alla città, con Sport e Salute. Si chiama Liberamente in Gioco. È un progetto che andrà avanti per due stagioni agonistiche, quindi terminerà nel maggio del 2025 e darà l'opportunità di praticare sport ma anche di fare attività extrasportive a una grossa offerta della popolazione. È doveroso anche di riportare questa bella conquista. C'è una grande tradizione di questa società Olimpia Martina, no? Sì, l'Olimpia... Ora sono stati di nuovo in Serie B. Sono stati di nuovo in Serie B qualche anno fa, poi c'è stata una riorganizzazione al loro interno, questo me lo spiegava lo stesso Giuseppe quando sono andato a incontrarlo lì agli spazi, come dicevo prima, del centro servizi. Poi piano piano loro hanno diverse squadre in diversi campionati. Con questa squadra sono riuscito a ottenere questo risultato importante che riporta appunto il Martina, l'Olimpia, in questo campionato di Serie B ed è una vetrina importante per una disciplina... Molto appassionati. Una disciplina anche importante perché mi spiegavano, ha anche un risvolto di natura sociale, cioè viene utilizzata anche come terapia per esempio per alcune patologie. Per esempio nel Parkinson, ecco mi spiegava Giuseppe, il tennis tavolo è una disciplina che viene particolarmente utilizzata perché va a stimolare quella parte del cervello insomma che viene danneggiata da questa malattia. E' bello sottolineare anche questi aspetti. Vorrei fare intervenire Consuelo però. Lei è figlia d'arte perché il papà è un allenatore, quindi mastica calcio anche in famiglia, no? Ha masticato. E beh. Eh direi Consuelo, eh? Diciamo da piccolina anche di più di adesso perché adesso grazie a Dio masticò anche ginnastica. Antonio Caroli che tra l'altro è stato allenatore anche della prima squadra quando il Martina ricorse alla Juniores, no? E salvò il campionato. Sì. E noi quindi lo dobbiamo sottolineare. Infatti lo dico sempre che sono debitrice per il sangue, sì. Per la passione, per lo sport. Sì, 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 questo sì. Sono cresciuta diciamo nello sport. Tuo marito è impegnato, è stato impegnato nella gara di cui abbiamo parlato anche. Sì, sì, Martina Franca Running, sì. La corsa. Diciamo che adesso siamo abbastanza, è una famiglia abbastanza sportiva. È solo sport, no? Sì, 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 sì. È di casa. Anche le figlie, un po' tutti. Anche il cane. Senti, tu la prossima volta ci porterai però qualche ginnasta, eh? Sì, sì, volentieri, volentieri. Senti, c'è qualche ragazza sulla quale puntate un po' di più che già fa intravedere grandi qualità? Beh sì, ci sono, abbiamo diverse ragazze. Le puoi nominare, eh? Certo. Perché farà piacere ai genitori. Allora intanto abbiamo Alice Chiarelli e Ludovica Marangi che sono un po' le veterane. Loro hanno cominciato da piccolissime, adesso stanno iniziando a diventare un po' più grandicelle. fanno parte del settore, diciamo, dei collegiali regionali, quindi dell'attività destrativa pugliese. Insieme a loro ricordiamo anche Allegra Chiarelli, Chiara Gallo, che fanno, diciamo, sono anche loro inserite in questa serie di addestramenti riservati alle migliori ginnaste della Puglia. Anche il settore di ginnastica artistica maschile va molto molto bene, infatti abbiamo Samuel D'Aversa che praticamente due settimane fa appena laureato campione regionale, Federico Zizzi, quindi un po' più piccolo ma anche lui una grande promessa. Tanti, tanti piccolissimi che stiamo preparando, ricordiamo anche Giada D'Aversa, Chiara Bagordo, Francesca Armenti, diciamo abbiamo una squadra abbastanza... Che noi nominiamo sempre nel palmarezzo i risultati, no? Sì, 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 poi adesso siamo entrati da poco nel vivo dei campionati individuali e ci si aspetta grandi cose per tutto l'anno sportivo. Veniamo da un anno molto 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 intenso, è stato un anno abbastanza importante perché ci ha visti anche ad Amsterdam per la gimnestata mondiale. abbiamo una squadra di ragazzi grandi che hanno vinto il campionato di Coppa Italia nazionale che si è tenuto a Rimini lo scorso dicembre, quindi ci sono i presupposti per un 2024, spero abbastanza più ricco del 2023, il che mi starebbe benissimo. Avrete sempre il vostro spazio di gloria nella festa dello sport del nostro amico Vincenzo Angelini che ci tiene tanto a questa attività. È un appuntamento a cui teniamo veramente tanto anche noi, infatti non nascondo che negli anni del Covid ci è mancato tantissimo perché è un momento sia esibitivo di dimostrazione ma anche un modo per vivere lo sport a 360 gradi perché in quella giornata siamo tantissime associazioni, si respira sport, si respirano tante discipline sportive, è bello anche tra atleti incontrarsi, salutarsi, osservarsi. Giusto, questi sono aspetti importanti, così come abbiamo scoperto che le evoluzioni con le Vespa sono una bella attività sportiva che ha molti seguaci nel nostro territorio. Marco? Sì, almeno ci proviamo, insomma, almeno a far provare. Vediamo qualche immagine Marco insieme, tu ci hai ideato, le commenti tu? Ok, va bene, va bene. Vediamo qualche evoluzione, qui sei tu all'Opera? Sì, questa è l'ultima di regionale, se non ricordo male l'anno scorso. Sei spericolato qui, eh? No, no. Abbastanza, ma guarda un po' che Gymkhana con la Vespa e vi posso assicurare che la Vespa è una mina vagante, con il retrotreno, che spesso, no? Sì, più che altro hanno una ciclistica normale, diciamo così, quindi non è equilibrata. Il peso è tutto dietro, l'avanti è leggero, quindi poi è tutta particolare, è bella comunque da guidare. È un culto però, eh? Quello della Vespa. È bella queste immagini. Dov'è qui? Allora, qua è al cartodromo della Murgia, ed era l'ultima, se non ricordo male, l'ultima di campionato regionale, interregionale Puglia-Basilicata, dove però non siamo riusciti a portarci a casa il primo posto assoluto, perché meno male escono altri piloti altrettanto bravi, quindi... Salutiamo anche Cosimo Barratta. Sì, salutiamo il presidente Cosimo. E il vostro presidente? Sì, Cosimo Barratta è il nostro presidente. Anche voi siete stati premiati quella sera, nella serata della festa dello sport? Nel calà dello sport? Sì, io c'ero, però salì sul palco Mimmo e... No, non fumo premiati, mi sono stati presentati nel... Io, se posso, vorrei ringraziare Michele Salamine e Antonio Caramia, perché grazie a loro, grazie a loro, siamo riusciti ad arrivare a questo punto, altrimenti ci saremmo rimasti fermi sulle regionali, perché... Il mio amico, Michele Rugge, Michele Rugge, Michele è un grande, Michele è sempre disponibile, sempre... Possessore di Vespa, è un grande amatore. Michele, sì, sì, il nostro vicepresidente, sì, sì, è sempre gentile. Grazie Marco, e bocca al lupo per la vostra attività, dicevi Ottavio, volevi aggiungere qualcosa? Sì, volevo unirmi ai saluti al presidente Mion Barratta, perché so che lui ci tiene particolarmente alle iniziative legate anche alla sicurezza stradale, perché poi è bello parlare di risultati sportivi, quelli che fanno piacere, questa è una trasmissione sportiva e di questo parliamo, però parliamo anche di aspetti sociali che riguardano in questo No, ma a me piace proprio la Vespa, per me è un oggetto... Allora, con il Vespa Club fanno tante iniziative legate proprio all'educazione stradale, iniziative pensate per i più piccoli, per i bambini, insomma, questi aspetti sono importanti, perché magari non portano un risultato sportivo nell'immediato, però hanno un risvolto, un significato sociale estremamente importante. Insomma, continuiamo questo viaggio nello sport nel nostro territorio e anche l'attività del Vespa Club ha trovato spazio in anteprima sport, abbiamo detto prima nel sommario che dovevamo anche trasmettere delle immagini che si riferiscono a un'altra bella manifestazione che c'è stata nelle pianelle e mi riferisco alla Marathon Bosco Pianelle 2024 domenica scorsa. Ecco queste sono le immagini, anche queste molto spettacolari, è un connubio, bike e territorio nostro, percorsi suggestivi, le pianelle. Pianelle è lo scenario che si presta bene a essere cornice per questa iniziativa, ma poi c'è Vito Marzulli che è sempre, carissimo amico, lavoriamo sempre insieme, facciamo tante cose. Guarda che belle immagini, è che coinvolgimento 600 partecipanti, un torneo che è riuscito a catturare l'attenzione di molti, ma ormai c'è una cultura della bicicletta, organizzata dalla team bike, davvero un lavoro del nostro amico d'Arcangelo, Mimmo d'Arcangelo, grande appassionato, e stanno facendo anche loro un figlio d'arte, il figlio del professor d'Arcangelo, scomparso, che ricordiamo sempre con piacere. Persone che hanno legato la vita allo sport, educatori prima di istruttori. Io l'ho conosciuto a scuola, e pure io, Ottavio, e poi anche io, al lessio scientifico, E poi anche per il suo impegno nel basket, molto importante. Bravo, Mimmo è stato anche un ottimo giocatore di basket, anche a livelli di serie D e oltre. Insomma, il nostro viaggio ha toccato anche questa bella disciplina, è una manifestazione riuscitissima, è giusto anche esaltare e risaltare. Io approfitto giocatore per chiunque volesse intervenire. Una ragazza che saluta e dice, buonasera, sono una ragazza che ama il calcio, ama il Martina, devo dire che il Martina è una bella squadra, nonostante il sostegno della gente, deve essere sempre più forte di quello che la gente pensa. Buon anno, un vero bomber, forza Martina, le trasferte sono le più belle. Insomma, questo è un bel messaggio, no che arrivano quelli cattivi che non li vogliamo leggere, no, assolutamente. Cerchiamo di essere democratici in tutto. Tommaso, hai visto che bel viaggio nello sport, non c'è solo il calcio, però voi avete una responsabilità pesante, Martina c'è una grande tradizione nel calcio. E poi quando si vede un obiettivo a portata di mano, allora... La che noi ci prendiamo le nostre responsabilità è sicuramente un obiettivo che fa piacere a tutti, siano i giocatori, i tifosi, gente di Martina, giornalisti, chiunque. Se vinciamo, vinciamo tutti insieme. Allora, visto che abbiamo superato già la prima parte, nella seconda parte parleremo più del prossimo appuntamento a Nardò, manca poco più di un quarto d'ora al termine e abbiamo lo spazio pubblicitario, come sempre, a farci da spartiacque, si dice così? Pubblicità. Salumi Martina Franca, un'eccellenza tutta italiana. L'intera gamma di prodotti della Salumi Martina è l'espressione di un territorio dove regna la tradizione e sono tutti prodotti realizzati con l'apporto della maestria e manualità tipiche dei nostri artigiani. Salumi Martina Franca, con sede in Via Vecchia Ceglie, numero 5, vanta anche una vasta scelta di salumi ricavati dai tipici allevamenti di suino nero. Ed è stata insignita del prestigioso premio speciale tre fette di Gambero Rosso. Fair Play, calzature ed abbigliamento sportivo delle migliori marche, vasto assortimento nei quattro punti vendita, siti in Via Libertà e Via Stefano Raguso. A Martina Franca, in questo periodo, la vendita promozionale prevede sconti fino al 50% su tutti gli articoli. Fair Play, inoltre, punto vendita esclusivo di tutta la linea completa di abbigliamento ufficiale Martina Calcio Merchandising. E a proposito di Merchandising, c'è una chicca che abbiamo esposta qui anche in trasmissione. Ecco qui l'uovo ufficiale del Martina Calcio, che lo troverete presso Fair Play, che in questo periodo sta effettuando sconti fino al 50%, addirittura. 50% da Fair Play nei suoi quattro punti vendita di Martina. Eccolo, l'uovo ufficiale. E con questo festeggeremo domenica, non anticipiamo che qua siamo tutti scaramantici. E allora, nella seconda parte c'è anche il ringraziamento alle associazioni che collaborano alla redazione di questa trasmissione. E noi dobbiamo essere grati a queste associazioni. Sì Giuseppe, ringraziamo e salutiamo le associazioni che collaborano con la nostra trasmissione a partire dal Martina Calcio 1947, ASD Allegria, Ginnastica Artistica, ASI Calcio A11 Martina, ASD Tic, Ginnastica Ritmica, ASD Taekwondo Manse, ASD Beach Volley Martina Franca. Approfitto anche per ringraziare i nostri sponsor, Fair Play Offside, Salumi Martina Franca, Antica Masseria Caroli, Caroli Elettronica, Montanaro Distribuzione Bevande, Gioielleria Lucarella, Euroshop e La Boutique Cosanti. Che ti ha vestito? In maniera impeccabile per questa puntata. Questo è un pensierino per Consuelo, invece, vedete? Grazie. E noi non ci lasciamo sfuggire nessuna opportunità perché festa della donna, si dice che non si festeggia, com'è sta storia? Ma sì, ormai si dice... Ma i fiori sono sempre graditi dalle donne. I fiori sono sempre un... L'omaggio floreale è sempre gradito. È un bel gesto di omaggio a una donna. È un'occasione per... ecco, per... dovrebbe essere un'occasione. Un po' di cavalleria? Comunque non è vero che non si festeggia, si festeggia sempre. È vero. E dai. Come le donne, così come gli uomini. Esatto. È giusto festeggiare, penso, le brave persone. È brava, brava. È vero. Ma tu cosa credi? Che non hanno pensato a te? Ma guarda. Non lo sarei perdonato. Giardino del Re, che ci ha offerto questi omaggi per le nostre presenze femminili di questa puntata. Angelica Lacarbonara, come sempre lei impeccabile. Grazie, bellissimo. In queste composizioni. Bellissimo. Originale, geniale. Cercavo l'aggettivo giusto. Damante dei fiori io... Ottavio, il finale. Nardò, Martina. Immagini della gara di andata. La regia stasera, lo vedo scattante, Francesco. Eccole. Questo super gol ce lo ricordiamo. E qui, anche qui, un pareggio di traverso. Ahimè, Tommaso Bonanno con noi. In studio. Anche qui, tu non c'eri però allora. Allora non eri ancora arrivato. Ebbè, anche qui, un pareggio che lasciò l'amaro in bocca, si dice così. Sono partite particolari, perché sappiamo il rapporto che lega le due società, le due tifoserie. Martina e Nardò sono due squadre gemellate, ma è forse anche qualcosa in più di un gemellaggio tra queste due squadre. Però poi succede che quando si scende in campo, e soprattutto si ha bisogno di punti in questo momento, sia il Martina sia il Nardò, hanno bisogno di punti. Il gemellaggio, diciamo, non conta... si ferma in tribuna, ecco, mettiamola così. Perché sarà gara vera, sarà importante ottenere un risultato pieno per entrambe le squadre. Credo che il pareggio non serva quasi a nessuno, almeno se si vuole continuare a sognare. Quest'anno il motto del Martina è davvero quello di non smettere di sognare. È stato così la parola sogno che ha accompagnato il Martina sin dal ritiro di Vigiano e poi già nelle prime sfide. E quindi se si vuole sognare, bisogna farlo alla grande. Ebbè, cosa vi ha chiesto il mister da martedì, quando vi siete ritrovati? Si è parlato subito del Nardò. Dobbiamo cercare di portare a casa per forza i tre punti. Se vogliamo continuare a sognare, per come si diceva poco fa, dobbiamo cercare di fare una delle partite più importanti di questa stagione. Perché in 15 giorni, in queste due settimane, in queste due partite, ci giochiamo tanto. Tommaso, com'è la condizione vostra? Prima ne parlavamo con Moncelli. Parliamo di condizione atletica. Avete fatto un richiamo di preparazione durante quella sosta? No, più che altro a dicembre abbiamo fatto il richiamo. In questi giorni abbiamo lavorato per come facciamo ogni settimana. Secondo me non è stata una questione di condizione atletica. Perché se abbiamo fatto 70 minuti fatti a mille, non credo ci siano problemi del genere. Poi, dico, la scorsa settimana abbiamo fatto, abbiamo girato anche mercoledì. mercoledì abbiamo dato tanti a delle squadre più forti di questo campionato. Credo che ad oggi stiamo bene, l'abbiamo dimostrato. Anche perché bisogna presentarsi, possibilmente, con qualche punto recuperato, alla sfida con l'Altamuro. Poi no? Sì, dobbiamo cercare di noi di vincere il più partite possibile. E' scontata come consiglio. Loro poi cosa, se vincono tutte le partite, come diceva poco fa il mister, facciamo l'applauso a fine stagione. Mancano due partite, ci sono 27 punti in palio, quindi ancora è lunga. Senti, l'attacco che si è un po' arenato. Martina Cortomuso si dice, però non è che l'Altamura segni così tanto, no? Quando si gioca con queste squadre che si devono salvare, diventa molto più difficile, perché se no sblocchi a primo tempo la partita, poi loro nei secondi 45 minuti si chiudono, diventa tutto molto più complicato. Vedi l'Altamura stessa, ha fatto gol quasi alla fine, con un cross c'è stato un mezzo di rimballo in aria, hanno fatto gol. A Nardua hanno vinto su un calcio di rigore, quindi tutte le squadre sopra, che stanno nelle prime cinque posizioni, stanno facendo fatica. Togliendo forse l'Andrea che ha vinto 5-2 la scorsa settimana, 15 giorni fa, stiamo facendo un po' fatica tutti quanti avanti, perché giocando con squadre del genere che si devono salvare, è veramente difficile dopo l'espazio. E allora, ricordiamo ancora questo appuntamento, carovane dei tifosi di Martina sono già in fibrillazione per questa sfida, che è molto sentita dalla tifoseria Bianca Azzurra, per la tradizione che c'è di vicinanza alla tifoseria del Nardò. Sì, è sempre una grande festa. E viene vissuta proprio come una festa. La cosa più bella probabilmente è il saluto che c'è, che caratterizza l'inizio, qualche minuto prima dell'inizio della gara, quando le tifoserie si salutano, perché c'è un rapporto, dicevamo, di un legame saldo tra Martina e Nardò. Certo, sul campo deve essere gara però. Eh certo. Sugli spalti tutti i gemellacci che vogliamo, no? Poi quando si scende in campo, sono di questo avviso. No, certo, certo. Poi finisce da. Lo sport va onorato e la competizione pure. E queste sono, lei sta riproponendo la regia, le immagini dell'andata. Il gol di Ganfornina fu per il Martina, se non sbaglio. L'avevamo visto, meraviglioso, quel gol. Questo colpo, sì sì, eccolo, è qui. E il saluto poi al settore. E' capace di questi gesti? Il nostro. Io credo che in questa partita e con quella performance, con quel tiro, prendemmo, come dire, piena consapevolezza delle capacità di Ganfornina, che avevamo già apprezzato nella prima parte della stagione, perché insomma il tocco del giocatore si vede fin da subito. Ma con questo tocco devo dire che ci siamo praticamente innamorati di Ganfornina. Da qui in poi è stato sempre meno. E da qui un messaggio di incoraggiamento anche a Ganfornina, che invece nelle ultime giornate lo stiamo vedendo un pochino in ombre. Speriamo che possa tornare a essere quel giocatore che tutti conosciamo, perché sulle sue capacità non c'è nessun dubbio, sulle sue potenzialità non c'è dubbio. Probabilmente il morale in questo momento è un po' basso e questo si percepisce poi anche nelle prestazioni in campo. Ma da Ganfornina ci aspettiamo tanto come tifosi, come amanti del Martina. E' con questo auspicio che chiudiamo questa puntata, ricordando però altri risultati delle altre discipline e di altre squadre del nostro territorio, come per esempio l'Albero Bello, che ha pareggiato 0-0 contro il Racale nell'ultima gara, prossima in programma il 10 marzo alle 15 in programma Alberobello-San Pietro-Vernotico. Posizioni di centro classifica per la squadra del Berrobello, invece il basket fatto registrare, ahimè Ottavio, un'altra battuta d'arresto. La squadra New Gen Martina è uscita sconfitta per 75-71 dalla sfida con la Brindisi Academy. Prossima gara il 9 marzo alle ore 18, Assi-Brindisi-New Gen Martina. E qui è una sfida già che ha il sapore quasi dello spareggio, perché il Martina è a 14 punti, per evitare la lotteria dei play-out, dovrebbe almeno conquistare un successo e portarsi a 16, quindi al quinto posto. E con questi auspici che facciamo un in bocca al lupo alla squadra del presidente Cecilia Delfini. Ancora SDT che ginnastica ritmica ci passa dei risultati, quattro podi per le ragazze della categoria LD, Junior 1, Elena Colucci sale sul gradino più alto, nella categoria LD, Junior 2, Ani Cacuaro anche lei, primo posto, categoria LD, Junior 3, classificata Rebecca Raguso, Maria Vincenza Scialpi ancora con un decimo posto in classifica, nella categoria LD, Senior Cecilia Blasi sale sul gradino più alto del podio. Taekwondo Manse, altra associazione che seguiamo molto da vicino, prosegue la preparazione verso la tappa nazionale freestyle del 17 dicembre a Riccione, dove l'associazione parteciperà con due atleti della squadra, Andrea Marzolla e Chiara Ancona. Vedi gli Ancona, si fanno sempre valere. Beach Volley Martina, prosegue la preparazione verso le finali nazionali delle ragazze under 16 e under 18, impegnate nella tappa di Taranto e vincendo diventeranno campionesse regionali. Ringraziamo Daniele Benincasa per queste notizie, abbiamo fatto una panoramica su tante discipline in questa puntata, non solo calcio, in bocca al lupo a Tommaso. Grazie per essere stato qui paziente, si è fatto una cultura di Vespa, di sport che è sempre piacevole per voi. Ottavio Cristofaro, tornato al suo posto, mi raccomando, la giustifica stavolta, vale per una volta. Giovedì io sono qui con voi. Grazie a Consuelo, Caroli. Grazie mille a voi. In bocca al lupo per la vostra attività. Crepi, crepi. Abbiamo fatto anche un salto nel mondo della passione. Gimcana. Dei Vespisti. Grazie, comunque, grazie mille. Grazie a voi, vi auguriamo altre belle manifestazioni, altre vetrine importanti per la vostra attività sociale. Grazie a Elena Tagliente. Grazie a Giuseppe Ancola. Buona festa. A tutte le donne, a tutte le donne. Rinnoviamo gli auguri. Cercare di festeggiare non solo domani, ma tutti i giorni. ed essere sempre solidali l'uno con l'altro. Soprattutto tra noi donne, che molto spesso non è così. Però io guardo sempre con positività questa cosa. È inutile che guardi, Ottavio. La festa del maschietto, purtroppo, non ce la possiamo permettere. Tra poco arriva la tua festa. Tra qualche giorno è anche la tua festa. Auguri al Presidente Nel Martino, Piero La Carbonara, e ai nostri affezionati followers. Arrivederci al prossimo appuntamento. Giovedì prossimo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.